Apriamo adesso la pagina di sport parlando di calcio mercato in casa biancazzurra. Gliozzi si complica, sull'attaccante del Monza c'è infatti in pressing anche l'Alessandria, neopromossa in B. Armellino invece resta un'opzione concreta. C'è la firma di Ianes, contratto triennale per il 24enne centrale argentino, ex Avellino, preso a titolo definitivo dalla Fiorentina. Sempre calda la trattativa per l'esterno d'attacco Eugenio Dursi, ex Bari, di proprietà del Napoli. In uscita è ufficiale la cessione di Gernaro Scogliamiglio all'Avellino. Il difensore Campano ha firmato un biennale con opzione per il terzo. Passi avanti per il centrocampista Carlo Derisio, le parti si sono avvicinate. Ora il calciatore dovrà trovare l'intesa col Bari, a cui è legato da un altro anno di contratto. La squadra intanto prosegue la preparazione del ritiro di Palena al ritmo di due sedute giornaliere. Primo test amichevole domenica 25 luglio, quando i Biancazzurri affronteranno lo spoltore team di eccellenza. L'orario è ancora da stabilire.